LIC! Ben ritrovati in cari vintori dell'Ugiona Bar Calcio, 19esima giornata di Serie A alle porte. Si comincia oggi con Udinese Salernitana che forse si gioca, forse no, lo scopriremo cammin facendo, ma comunque noi siamo qui a dare i 10 pronostici di questa giornata. La scorsa abbiamo indovinato 8 risultati su 10, 8 su 10, quindi si torna in maniera veramente prepotente vicino al malloppone, quindi prendete appunti perché in questa giornata me lo sento, vi faccio il regalo di Natale e sbanchiamo, ok? Quindi armatevi di penna all'inchiostro di barbo e un whisky, taccuino e prendete questo che vi sto per dire. Iniziamo però prima con le solite buone maniere del canale, l'iscrizione, iscrivetevi, porca vacca, condividi mio caro avventore con tutti i tuoi amici calciofili che conosci questo canale, questo video, ok? E lascia sempre un mi piaccino ai video dell'Ugiona Bar. Calcio, Udinese, Salernitana, laddove si dovesse giocare non ho dubbi vincerà l'Udinese, quindi segno 1, magari metterà due gol Beto, chissà, quindi amici del fantacalcio, segnatevi Beto, Mark and Goh, che è in ottima forma, questi due giocatori vanno sicuramente messi e chissà che Nuitink non la metta di testa, Salernitana lascerà esterno. Genova-Atalanta. L'Atalanta gioca fuori casa, fuori casa è una macina a sassi e io penso che macinerà il Genova senza problemi. Prevedo anche parecchi gol, quindi segno due, inequivocabilmente due. Nell'Atalanta metterei la qualunque, ovviamente Zapata, Muriel, chi ce lo dovesse avere lo butti dentro anche se dovesse come sarà a partire dalla panchina. Amrachmand, Amrachmand. Dell'Atalanta, chiunque voi abbiate, inseritelo. Juventus-Cagliari, anche qua, inequivocabilmente sarà segno 1, non vedo come la Juventus non possa vincere. Contro il Cagliari, giocatevi l'1, ok? Chissà che Bernardeschi non rischi la giocata e la metta dentro sotto Natale, ok? Già me l'immagino ai microfoni post partita dire che è il più bello regalo di Natale che Gesù Bambino poteva mai farlo. Quindi giocatevi, il Bernardeschi, Morata è on fire, quindi assolutamente sì, se ce l'avete. Del Cagliari eviterei veramente la qualunque, persino Zoao Pedro. Lasciate stare. Sassuolo-Bologna. Sassuolo-Bologna. Sapete, vedete i miei colori, sono di parte, mi verrebbe da dire giocatevi l'1, ma non ci riesco e quindi cambio e dico giocatevi l'over, ok? Over, cioè una partita con più di due retti, ok? Quindi almeno tre. Mi giocherei il segno over, sapendo che il Sassuolo è in ottima forma, il Bologna no. Il Sassuolo ha un attacco della Madonna, il Bologna in questo momento ha le polveri molto bagnate. Andiamo avanti. Venezia-Lazio. Ovviamente nel Sassuolo i Scamacchi, i Berardi, i Raspadori, ad occhi chiusi da mettere, i frattesi da mettere assolutamente. Nel Bologna, se devo consigliare qualcuno, consiglio Svanberg, ok? Consiglio Svanberg che potrebbe trovare la castagna da fuori, chissà, chissà. Ikei, posso consigliare un Ikei che qualche volta alla conclusione ci va, ma andate con l'Empinze, con i giocatori del Bologna perché è un momento un po' così. Venezia-Lazio. Venezia-Lazio, qui è la partita dove mi gioco la doppia. Mi gioco il mio classico X o over. Over, quindi una partita che finirà in Parigio o verranno segnati almeno tre retti. Non ci sarà immobile, ok? Quindi tutto lascia pensare che i matatori dell'incontro per la Lazio eventualmente potrebbero essere Pedro, Zaccagni, Milinkovic-Savic, chissà che Luiz Alberto, qualora dovesse giocare, non segni o quantomeno fornisca assist. Tutti i giocatori che se ce li avete sono da schierare. Nel Venezia è ormai un must in casa mettere Mattia a ramo. E Henry sembra in forma, quindi attenzione a questi due, metteteli. Do anche una chicca, Cernigoi. Se ci avete Cernigoi, fate la pazzia, mettetelo. Inter-Torino. Inter-Torino, qui mi gioco l'over. Verranno segnate almeno tre retti. Quindi Inter-Torino, over. L'Inter, secondo me, vincerà. Però, ansamai, il Torino è una squadra che si chiude abbastanza. Potrebbe poi anche succedere che possa finire, non so, 2-2. 3-3, chissà. Io mi gioco l'over e così mi sento più al sicuro. Ovviamente nell'Inter è on fire Dunfrise. Per cui lo consiglio Perisic, Cialanoglu. Tutti i giocatori che ovviamente manco a pensarci da mettere. Sanchez, se ce l'avete, schieratelo. Nel Torino, ovviamente, Bremer se ce l'avete. Pobega se ce l'avete. Sono giocatori che si mettono senza sé e senza, ma amrachmanda. Roma-Sampdoria. Roma-Sampdoria, io dico, 1. La Roma vincerà contro la Sampdoria e andrà alle vacanze di Natale bella tranquilla. Abram è sugli scudi. Penso che possa continuare su questa scia. E secondo me Zaniolo, laddove non sia squalificato, laddove non sia squalificato e dovesse giocare, io lo metterei. Perché è on fire, ok? Quindi amrachmanda e anche la difesa. Smalling, i bagnes, sembrano veramente in un momento strabiliante. E secondo me la Sampdoria farà fatica anche a segnare. Quindi Roma-Sampdoria, 1. Verona-Fiorentina. Partita dove io mi gioco il segno gol. Cioè tutte e due le squadre andranno a segno almeno una volta. Ci sarà il Simeone che vorrà far vedere alla Fiorentina di essersi sbagliata. A cederlo a suo tempo, ovviamente. E quindi se ce l'avete, mettetelo. Bisogna vedere se Barak tornerà tra i titolari, non lo so. Ma comunque è un giocatore che laddove fosse convocato, ecco, è da schierare, ok. Viceversa io comunque andrei un attimino cauto col Verona perché stanno attraversando un momento, un attimo, di impasse. E mentre la Fiorentina sono molto, molto, diciamo, sugli scudi. In questo momento ovviamente Vlaovic. Saponara potrebbe essere la sua partita. Quindi buonaventura. Tutti i giocatori. Milenkovic, mi sbaglio sempre. Milenkovic della Fiorentina che l'altra volta ci è andato vicino due volte. Chissà che in questa non la metta. Tutti i consigli che vi do da schierare per il Fanta. Quindi Verona, Fiorentina, segno gol. Empoli, Milan. Anche qua mi gioco il segno gol. Bisogna vedere il Milan se riuscirà a venire fuori un po' da questa piccola crisi che l'ha abbracciata. L'Empoli invece comunque sta continuando a macinare punti. Ricordiamoci che hanno a neo promossa. Io dico quindi che entrambe le squadre andranno a segno almeno una volta. Pinamonti magari farà il gol appunto. Non dico del derby perché sapete che è di proprietà dell'Inter. Però insomma avete capito. Chissà mai. E nel Milan chissà. Magari uno Junior Messias che dalla panchina entra e la mette. Chissà. Chissà. Segnatevi questi nomi. Empoli, Milan, gol. Finiamo con l'ultima partita. Ok. Dipenso di questo anno solare. No perché dopo si va all'anno nuovo. Che sarà Napoli-Spezia. Napoli-Spezia segno inequivocabilmente uno. Non penso che possano esserci altri segni. Se avete i Mertens, gli Elmas, qualsiasi giocatore del Napoli mettetelo. Se ci avete quello-Spezia evitatevi. Fidatevi. Questi dunque i consigli che faccio apparire qua in sovra. Impressioni, mi impressioni sempre. Ma tenete ben a mente. Questo è il regalo di Natale che vi faccio. Giocatevi questa schedozza. E voi passerete un Natale con lo spumante, con il panettone di Gigno Massari. Ok. Gentilmente da me offerto. Perché sbancherete. Ok. Andateci piano però a giocarvi. Non giocatevi la moglie. Non giocatevi la casa. Ok. Vi dico. Potete. A di solito dico 2 euro. A questo giro. Se fate queste schedine. Mi voglio rovinare con il vostro portafoglio. Giocatevi. 13 euro. 13 euro alla faccia della sfiga. O 17. Vedete voi. E arrivate. Come minimo a 1000 euro. Se giocate questa schedina. Che vi ho poc'anzi. Poc'anzi detto. Ok. Per i più temerari. Ok. Si può. Si può anche fare. È Natale. Va bene. È concesso il permesso. Grazie. Poi. Lasciatemi qui sotto nel box commenti. Appunto. La via. Dove. Volete. Ringraziarmi. Con un bel bastone chiodato. Va bene. Ok. Anche no. Dai. Ok. Oppure. Se vorrete darmene una buona parte. A me. Almeno un 20-30%. Va sempre bene. Fatemi sapere. Attivate il campionaccio pastorale. Per rimanere sempre aggiornati qui. Bisogna abbracare sui nuovi video. Ci sentiamo alle prossime. Chiacca da bar. Ciao.